Non c'è due senza tre. Dopo il no di comune e provincia alle pratiche AGB e MEB, la sorte pare segnata anche per la terza ditta interessata all'area San Lazzaro, la Brunello Domenico. Il verdetto arriverà martedì, nell'ultima puntata di una bruttissima storia che si ripete, come la riassunta del presidente del raggruppamento bassanese di Confindustria Vicenza. L'ennesima vittoria del sistema anti-impresa che vede nella burocrazia il più forte dei suoi alleati, così l'ha definita Alessandro Bordignon, che osserva, dopo mesi di confronto su ambiente, lavoro e sostenibilità, un progetto promosso dal merito anche dalla soprintendenza rischia di andare all'aria per questioni di carte. Capisco la frustrazione ovviamente degli imprenditori, ma anche dei cittadini che a volte si trovano a fare richieste che le cui tempistiche di evasione magari sono anche lunghe. Il pedante formalismo contestato da Bordignon si è tradotto in un no tecnico per l'utilizzo dello sportello unico, in contrasto con il piano territoriale di coordinamento provinciale. Diciamo che la procedura non è sicuramente quella corretta, quella di utilizzare uno sportello unico a trenino, quindi in batteria, rispetto a quelle che sono appunto le linee guida. Se le imprese vorranno portare avanti la loro proposta, dovranno seguire un percorso molto più lungo, incompatibile con le scadenze di deroga previste dal tribunale, sottolinea Bordignon. Quando poi le aziende e il lavoro scappano, conclude il presidente degli industriali bassanesi, inutile piangere sull'atto versato.